bentornati amici smokers in questo video andiamo a fare la recensione completa del golf il golf è uno dei quattro tabacchi italiani insieme al comune al forte e l'italia questa busta da 40 grammi viene costa 6 euro e 50 economica dalla descrizione c'è scritto blend di tabacco virginia barley e kentucky della toscana sembra quasi una miscela una miscela naturale mentre da tabacco riviev diversamente c'è scritto che siamo davanti a una miscela di tabacco virginia barley kentucky oriental turkish addirittura cacao cioccolato alcol liquore frutta secca prugna varie quindi già si presenta come una cosa un po più complicata questo tabacco ha un taglio ribbon e vi faccio vedere qualche spezzone ve lo riporto ma se non l'avete già fatto ricordatevi di iscrivervi al canale fatelo subito cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video che pubblico cadenza settimanale e lasciatemi un bel mi piace se vi è piaciuto il video a voi non costa niente a me aiuterà tantissimo il video per taglio un taglio ribbon come vedete bello scuro no un ribbon con dei pezzetti un po più pressati tentante a ribbon cut faccio vedere anche qui c'è un po nel piattino un bel colore scuro con qualche pizzettino biondo le sensazioni olfattive innanzitutto si sente un un odore abbastanza forte di alcol si percepisce anche qualcosa di frutta matura riconducibile alla prugna si anche un qualcosa più basso di legnoso tipo sandalo con qualcosa anche di di frutta secca e combustione viaggia va bene l'umidità è una è una pecca di questo tabacco difatti l'ho trovato molto secco informandomi in questo tabacco dalla casa sembrerebbe che uscirebbe già un po secco cioè umido ma poco io probabilmente quindi probabilmente se già essendo in busta se da un po di tempo che sarebbe stato infumabile mentre i sentori al gusto nella prima metà fumata è forte il sapore del cacao dopodiché sotto come a un 20 15 per cento ci sono diversi antagonisti ossia virginia barley sentono sia quella forza un po del barley quella rotondità del barley si sentono quelle note pungenti del virginia sotto quelle piccole piccole dolci e pepate e si sente la la frutta secca cioccolata sul 10 15 per cento ma questo per la prima metà della fumata dopo un po il cacao scende e il virginia sale insieme alle note pepate e durante tutta la fumata invece ci sono questi altri sentori sotto cioccolata frutta secca che si che si alternano però la caratteristica a livello del gusto di questo tabacco questa per me è stata questa ossia che nella prima metà fumata c'è un dei forti sentori di cacao e nella seconda scende e sale il virginia e e sotto con sotto tutti gli antagonisti che vi ho descritto ah dimenticavo il kentaki non pervenuto io non l'ho sentito tirando le somme se dovessi dare un voto da uno in dieci a questo tabacco c'è da considerare il fatto che era molto secco d'altra parte comunque sia come come aromatizzato non l'ho visto troppo dolce troppo panettone non genera acqua e ruggiola o poca non è male io gli darei da uno a dieci darei un sette forse un po condizionato forse mezzo voto è stato frutto del patriottismo chi lo sa non lo sapremo mai però però non è non è male e se la gioca sicuramente anche per il prezzo che ha qualità prezzo sicuramente ottimo rapporto se la gioca con tanti altri tabacchi secondo me fatemi sapere anche voi nei commenti se l'avete fumato cosa ne pensate che mi interessa vintage pipe nightmare ragazzo che fa le recensioni dalla romania e parla in inglese ma si capisce benissimo mi piace tanto l'italia è un grande tifoso della ferrari ciao silviu a presto cheers e anche per oggi la stella cueva è tutto sia perché stella faccia sulla prossima amico smokers i